Imparare l'italiano in 30 giorni con Blue Blue. Claudio Muez, stagione 1, episodio 1. 3 minuti, abbiamo un timer, ok? 3, 2, 1, via. Ciao Muez. Ciao Claudio. Dove siamo? Siamo a Roma, a Stoccolma o siamo a Vilnius? Siamo a Vilnius. Sì, questa è la prima volta che io e Muez parliamo in italiano. Adesso... La prima volta. La prima volta, la prima volta. Muez parla un po' spagnolo? Un po' spagnolo. Spagnolo, cinese. Io parlo un po' spagnolo, cinese, lituano e svedese. Muez è svedese. Io sono italiano, sono Claudio. Sono svedese, sono Muez. Io sono Muez. Sì, e non siamo in Italia ora, non siamo in Italia, ma siamo... dove siamo? Siamo in... Siamo in Vilnius. Siamo a Vilnius. Siamo a... a Lituania. Siamo in Lituania. Siamo in Lituania a Vilnius. Sì, sì, bravo. Bravo, bravo, bravo. Siamo... tu siamo... Io sono, tu sei... Tu sei a Vilnius? Sì. Tu sei... anche tu sei a Vilnius. Anche... anche io. Sì. Anche io, anche tu. Sì. Noi, noi siamo a Vilnius. Noi. Noi, noi siamo... 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 siamo a Vilnius. Sì, sì. Vilnius è la capitale della Lituania, per chi non lo sapesse, è la capitale... Stoccolma... è la capitale della Svezia. Stoccolma... Helsinki è la capitale della Finlandia. Roma dell'Italia. E Vilnius? Vilnius è la capitale... capitale della Lituania. Sì, 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 sì. E Tokyo è la capitale della... del Giappone. Del Giappone. Del Giappone. Del Giappone. Sì. E adesso qui a Vilnius è ora di mangiare. Io e Moez andiamo a mangiare adesso. 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 Cinque minuti. Cinque minuti andiamo al ristorante. Ah, adesso... adesso cinque minuti andiamo al ristorante a mangiare. Sì, a mangiare. Solo che non c'è la pasta, non c'è la pizza, non... Io... io... non mangio... mangio... io non mangio pasta. Anche io non... parliamo solo italiano, ma non mangiamo italiano. Non... non mangiamo. Italiano. Non mangiamo. Cibo italiano. No, sì, un po' sì. L'olio d'oliva. Olio extravergine d'oliva. Olio di oliva extravergine... vergine. Perfetto. O... cin... cin... cinese. Cinese? No. Mangiare. Ah, mangiamo il cinese. O... cas... eh... Ah, tre minuti. Stagione uno, episodio uno. Perfetto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao.